ciao a tutti carissimi un po creativi benvenuti o bentornati in questo canale io sono vincenzi e oggi vorrei mostrarvi come fare un calendario dell'avvento un po particolare io l'ho chiamato calendario dell'avvento scomposto perché si può sicuramente fare con un filo di spago mettere tutti questi diciamo cestini che ora faremo insieme appunto poterli mettere una dietro l'altra e appenderli come si fa con i soliti calendari dell'avvento però quest'anno ho voluto fare qualcosa di diciamo di diverso vorrei metterli in una stanza però tutti scomposti appunto messo uno su un mobile uno sulla libreria uno in un altro mobile in maniera tale che ci sia una specie di caccia alla sorpresa i regali saranno piccolini adesivi gomme di quelle particolari questi sacchetti piramidali saranno fatti in origami ma molto molto semplicemente quindi adatto è un calendario dell'avvento un tutorial adatto a tutti questa è la parte finale allora c'è già qui ho messo il dono di questo ho ritagliato anzi mi ha aiutato l'elfo devo dire abbiamo ritagliato una parte di carta da regalo per evitare di mettere i soliti adesivini ho preso una carta da regalo appunto con queste immagini più che altro di figure poi con un punch questo abbiamo creato le stelline io metterò giù in descrizione i vari materiali che vi mostro e dove li ho acquistati ce ne sono alcuni che ho trovato nella in negozi di casalinghi quindi ad esempio queste stelline io ho usato questa mollettina l'ho colorata con un colore acrilico dorato e per chiuderlo in maniera tale che sarà poi molto facile poterlo aprire un altro metodo per chiudere questi pacchetti è appunto usare queste stelline perché questo tra parentesi si può fare anche con il riciclo creativo perché questa è una pagina di un libro un vecchio libro ho inserito tranquillamente questa stellina e si apre in questo modo questo tipo di piramide si usa per fare le bomboniere se siete interessati fatemelo sapere nei commenti realizzerò questo tipo di piramide però proprio per fare la bomboniera che è diversa dal metodo che ho utilizzato per fare queste piramidine deve essere diciamo aperta perché in maniera tale che poi si tolga e si apra semplicemente invece nelle bomboniere in un altro modo si possono utilizzare la carta d'origami e poi questa la carta dal regalo quella un po' più consistente perché quella sottile c'è una carta dal regalo proprio sottilissima quella non va bene questa è una piccola premessa che dovevo fare per per spiegarvi un po' il mio il mio tutorial quindi adesso andiamo subito al tutorial perché come al solito parto per due parole e poi mi dilungo cominciamo subito userò questo foglio giallo per fare da contrasto in maniera tale da farvi notare meglio i vari passaggi allora questo è un foglio 20 cm x 20 cm potete utilizzare anche quello 15 x 15 cm la differenza è questa quindi partiamo facendo le diagonali semplicemente come dico sempre in tutti i video di origami quando si fanno queste pieghe si parte da qua e si va piegando al centro facciamo la stessa cosa con l'altra diagonale più le pieghe sono perfette diciamo più giuste più sarà perfetto il modello che si realizzerà in questo modo adesso qui c'è questa piega dobbiamo portare questo qui in questo modo seguendo questa piega idem da questa parte adesso questa punta andrà qui sempre più centro possibile adesso questo lo dovremmo fare per gli altri triangoli quindi anche per questo il resto è per questo adesso apriamo spero si noti qui si è fatto un quadrato andiamo a piegare bene queste parti in maniera tale da facilitarci poi le pieghe alla fine adesso come dico sempre uno dei miei ritornelli è la carta che vi dice dove andare così e piegate questo così e piegate idem per questo e per questo si chiuderà si chiuderà perfettamente è semplicissimo invece quello per la bomboniera è leggermente più difficile leggermente però questo è molto più diretto quindi a voi adesso scatenare la fantasia e poi appunto metteremo la chiusura anche così in maniera tale che poi il bambino o la bambina tirerà questo questa specie di linguetta e tutto sarà aperto a mo' di fiore ecco ma anche per grandi io punto anche per il calendario dell'avvento per grandi spero di avervi fatto una compagnia colorata che vi sia piaciuto questo video e alla prossima ciao un po creativi ciao se questo cane mi dà il permesso di parlare evidentemente no e poi prendere questo chiuderlo in maniera leggera diciamo e con io è volata è volata ragazzi grazie 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 grazie